ciao bentornati e bentornate sul mio canale vediamo in questo brevissimo video come cavarcela con l'argomento osticissimo delle prove di valutazione anche dette verifiche o interrogazioni durante la dad o didattica digitale integrata vi ricordo che quello che state guardando è la puntata numero 4 del video corso gratuito per la dad e la dd che trovate qui sul mio canale utilissimo a insegnanti disperati o perché sono capitati quest'anno per la prima volta in dado in dd oppure perché sono veramente reduci da un pessimo anno di didattica a distanza e stanno cercando qualcosa di meglio le puntate precedenti se ve le siete perse ve le lascio linkate qui sotto nella descrizione del video in modo che possiate scegliere quali puntate guardare nel dettaglio o rivedere per sistemare per alla perfezione tutte le vostre lezioni di didattica digitale ma veniamo a noi il problema principale del collegamento a distanza è che se facciamo verifiche solamente sui contenuti siamo quasi sicuri al mille per mille che questi contenuti i nostri studenti li copieranno li copieranno dalla chat di whatsapp aperta sul computer o sui loro cellulari li copieranno dal libro digitale aperto nell'altra metà dello schermo oppure dal libro cartaceo o dai bigliettini che si sono preparati o da chissà quale altro metodo che si sono inventati per far di tutto tranne che studiare ovviamente quindi questo è il grande problema le verifiche contenutistiche in didattica digitale a distanza sono difficilissime perché danno una valutazione completamente errata di quello che è davvero la quantità di studio di questi studenti collegati da casa per fortuna ci sono alcune soluzioni e qui vado a raccontarvene in breve alcune di quelle che io ho applicato in questi diciamo due anni di dad la prima raccomandazione di non fare verifiche contenutistiche ma di limitarsi a verifiche lo vediamo tra un attimo per competenze però c'è anche il momento in cui dobbiamo per forza chiedere un contenuto allora lasciatemi dare qualche piccola accortezza fate in modo che le vostre domande non siano facilmente google abili che cosa intendo intendo dire che se scrivete in quale anno è morto carlo magno è il vostro studente ci metterà un secondo copia e incolla su google e trovare la risposta quindi fate in modo che i vostri quesiti non siano così facilmente risolvibili magari mettete anche delle applicazioni a casi personali invece che rimanere sul classico esempio vago quindi costringetele ad utilizzare delle delle frasi che descrivono delle loro attività per esempio una verifica di scienze sull'apparato digerente è raccontami il cibo che hai mangiato ieri sera a cena e come viene digerito lungo il percorso nell'apparato digerente questa non è una richiesta google abile non è qualcosa che posso copiare dal mio compagno perché avrà mangiato qualcosa di diverso e gli step di digestione diciamo saranno leggermente diversi oppure ancora fate in modo che debbano correggere qualcosa che non troveranno online quindi inventate i testi delle vostre verifiche non prendeteli dai libri digitali o da altre risorse che si trovano in google perché anche gli studenti ci arrivano e magari chiedete loro non di inserire delle parole all'interno di una frase che magari riuscirebbero a ritrovare in rete ma magari di correggere una frase che avete scritto voi oppure addirittura delle immagini che contengono dei contenuti in modo che sia ancora più difficile risalire alla risposta perlomeno tramite un computer se non ovviamente utilizzando il metodo di copiatura da studente a studente questi sono pochissimi e brevi consigli che vi sto lasciando ma in realtà io ho parlato in lungo e in largo delle verifiche digitali in questi due anni scolastici di didattica a distanza e troverete infatti sul mio canale ve lo lascio linkato qui un video che già tratta l'argomento ampiamente se ve lo siete perso ve ne consiglio caldamente la visione vi fa un riassunto di tutto quello che dovete sapere di tutti i programmi che potreste usare per le vostre prove di valutazione ma sicuramente la strategia migliore è sempre quella di valutare le competenze e quindi applicare i contenuti ma in realtà non sono solo competenze contenutistiche sono anche competenze digitali quelle che stiamo loro insegnando in questi mesi e senz'altro possiamo andare a valutarle durante le nostre verifiche per esempio chiedendo loro di incollare o di inserire all'interno del testo della verifica un'immagine pertinente all'argomento oppure un'immagine tratta da un sito affidabile di cui magari citare la fonte la sitografia è una competenza digitale che ormai tutti dovrebbero avere quindi non più chiedere di fare una ricerca perché tanto lo sappiamo che fate copia e incolla da internet ma dimmi quali sono i siti che su cui potresti fare una ricerca e che però siano veramente siti affidabili per i contenuti scolastici poi ci sono tantissimi altri consigli che vi potrei dare perché ogni verifica ogni classe ogni materia ha il proprio strumento valutativo giusto ogni caso è diverso e le possibilità di plagio da parte degli studenti sono sempre diverse in base alle diverse verifiche anche le interrogazioni orali possono essere svolte in didattica digitale l'importante è sapersi organizzare ed è per questo in realtà che io tutto questo l'ho già raccontato in un corso su wiki scuola di cui vedete il programma accennato qui delle competenze riservato ai docenti non solo della scuola secondaria ma anche a quelli della scuola primaria se ne avete la necessità corso durante il quale impareremo non solo a valutare quale strumento digitale utilizzare a seconda che siamo in dad o in ddi ma anche come riuscire a fare delle verifiche asincrone affidabili quando i nostri studenti non hanno una buona connessione sufficiente a garantirci una prova di valutazione in collegamento diretto quali sono le piattaforme che più ci aiutano a non essere imbrogliati e come utilizzarle o anche come far creare dei programmi in automatico delle verifiche diverse per ogni studente o farci direttamente somministrare gli studenti che sappiamo avere dei bisogni educativi speciali una prova di valutazione più breve o che esclude alcune domande ci sono anche dei programmi che che fermano la schermata quindi per cui è impossibile che gli studenti escano da quel programma per andare a cercare le risposte online e ci sono tantissimi modi per interrogare sia in modalità sincrona che in modalità asincrona perciò se siete qui in cerca di ispirazione vi lascio comunque il link del mio corso su wiki scuola sono dieci ore che potete fare di formazione quando volete visto che sono video registrate con un costo che è assolutamente spendibile anche con la vostra carta docente trovate il link diretto proprio qua su in alto e senza assolutamente mai dimenticarvi di essere inclusivi quindi di saper scegliere una modalità di verifica che permetta anche agli studenti con dei bisogni educativi speciali o dei disturbi specifici dell'apprendimento di svolgere serenamente le vostre verifiche o prove di valutazione in digitale e non si tratta solo come vi ricordo in questo video video sempre linkato qui su in alto di gestire bene l'uso di classroom in modo che determinati studenti arrivino più o meno compiti o un link di una verifica piuttosto che un'altra questa è una funzionalità base che ormai tutti sappiamo usare e che vi descrivo proprio qui in questo video ma che assolutamente non basta non basta perché per i disturbi specifici dell'apprendimento ricordatevi sempre che il digitale è uno degli strumenti migliori per la compensazione o quantomeno uno molto diffuso e quindi non ci dimentichiamo assolutamente che tutte le volte che mandiamo materiale ai nostri studenti potremmo mandarlo già inclusivo quindi sfruttando già delle funzionalità all'interno dei programmi digitali che tutti utilizziamo per aiutare questi studenti esattamente come li aiutavamo in classe sempre qui sopra vi lascio un link che ci permette di arrivare dentro una mia live sull'argomento è un pochino lunga troverete come al solito il riassunto per capitoli sotto nella barra lo sono proprio andato aggiungere apposta per voi in modo che possiate guardare direttamente la parte che vi interessa è chiaro che esiste un corso mio su wiki scuola anche su questo argomento dove vi insegno a creare del materiale che sia veramente inclusivo con pochi clic in modo da non appesantire l'insegnante curricolare nella preparazione del materiale che normalmente utilizza e prepara con la classe ma anche e soprattutto a insegnare ad utilizzare ai vostri ai vostri studenti proprio gli strumenti compensativi che sono già racchiusi dentro negli strumenti della nostra didattica perciò dedicato in particolar modo anche a tutti gli insegnanti di sostegno o insegnanti curricolari che lavorano con disturbi specifici dell'apprendimento il programma lo potete vedere qui è dettagliato e vi permette di imparare sia l'utilizzo sia di insegnare agli studenti ad utilizzare programmi come read and write o immersive reader oppure a sfruttare tutte le possibilità di commenti vocali all'interno dell'ambiente g suite anche questo è un corso acquistabile sulla piattaforma wiki scuola sono sempre lezioni registrate quindi fruibili comodamente dal divano di casa vostra in modalità asincrona e acquistabile con la carta docente chiaramente tutti i corsi wiki scuola sono sempre riconosciuti dal miur come ore di formazione per noi docenti io vi lascio in compagnia di alcuni video che vi potrebbero decisamente interessare dateci un'occhiata